Il cervellone è un nuovo gioco, un gioco didattico, che vogliamo impostare e portare nella scuola in modo tale che i bambini possano giocando imparare. Se vediamo che questo cervellone piace ai bambini e alle scuole abbiamo intenzione di creare un torneo che coinvolga tutte le scuole Liguri che partirà da gennaio dell'anno del 2013. L'esperienza di questa mattina è stata una buona esperienza, i bambini si sono divertiti molto, le maestre contente di questo gioco e quindi penso proprio che sarà un nuovo successo del progetto Giovani. Grazie a tutti!